Sì, con Gabriele Tredozzi nel box della Minardi. Allora, avete analizzato i dati, avete capito di che cosa si tratta per quei problemi alle gomme posteriori sinistriche? Sicuramente siamo ancora al 100%, però penso che sia legato al tappo della valvola che è stato perso dopo il p-stop. Penso che sia questo entrambe le macchine. Chiaro che non c'è la sicurezza al 100%, però penso che sia questo, quindi non è un problema alla gomma. Quindi non problemi di foratura o di detriti? No, penso di roba. Ecco, allora, Gabriele, comunque ricordiamo brevemente Indianapolis che per voi è stata bella come Gran Premio, nel senso che siete riusciti a fare dei punti. Beh, Indianapolis, oggi è un altro giorno. Era una condizione particolare, era importante arrivare in fondo in quella gara. Siamo, abbiamo fatto tutto il quinto e il sesto. Senti, una parola sul futuro della Minardi in questa seconda parte di stagione. Che avete, state andando avanti con lo sviluppo della vettura. Cosa vi potete aspettare? Ah, la vettura sta andando bene, è affidabile, siamo vicini alle Jordan. Anche oggi eravamo a 10 secondi da una delle due. Avevamo buone speranze di poterla raggiungere, perché era ancora vicino a metà gara. Sembra che siamo fermati al 37esimo giro. E magari battete le Baronda alla fine? Ma non facciamo, non diciamo dei sogni, è importante essere coi piedi per terra, cercare di migliorare quello che abbiamo. La Baronda è un'altra realtà e spero che possiamo far bene comunque e migliorare. Grazie Gabriele, sempre legge. Grazie.